Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati in un nuovo test mod su Farming Simulator 19. Probabilmente sarà o l'ultimo test mod del canale o uno degli ultimi per quanto riguarda questo capitolo del gioco. E soprattutto è l'ultimo test mod, l'ultima mod che riguarda il team FSI, che riguarda Peppe978. Adesso parliamo infatti di una sua mod, di una mod tutta italiana, parliamo di Alpego Super Craker, che in realtà diciamo è doppia. Io nell'anteprima vi avevo fatto vedere solo questo, perché credo che nelle anteprime non vada fatto vedere proprio tutto, per una questione un po' di sorpresa, un po' così, per lasciare qualche chicchettina quando esce la mod. E infatti oggi sicuramente avrete visto questo coltivatore nelle altre anteprime, ma io nella mia l'avevo appunto lasciato nascosto appositamente, per effetto sorpresa, vabbè chi ha visto solo la mia d'anteprima adesso avrà l'effetto sorpresa, se no no. Ma comunque insieme al Subsoiler c'è anche questo bellissimo coltivatore, in modo che con entrambi gli attrezzi in combinata potete sia arare il campo che coltivarlo. Ma andiamo a passetto d'uomo, insomma, andiamo più lentamente. Prima di cominciare a spulciare la mod in ogni sua sfaccettatura, voglio ricordarvi che se non avete ancora preordinato il gioco, potete farlo dai miei link Affiliazione Giants Partner qua sotto, per aiutarmi a scalare le vette della Partner, e arrivare a quella d'argento, per me sarebbe un sogno, grazie a tutti gli amici che hanno comprato e che comprano dai miei link, ma se avete già comprato il gioco, magari su Steam, su altre parti, potete acquistare sempre dai miei link qua sotto il Season Pass, se non l'avete fatto. Season Pass, questo qui, vale per Steam, vale per Epic, vale per tutto, per la versione fisica, potete farlo, insomma, potete aiutarmi. Poi vi ricordo che sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sera alle 20 e 30 sull'altra piattaforma, e se avete Amazon Prime potete venire di là e abbonarvi gratuitamente al mio canale, grazie, 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 grazie. Detto questo, iniziamo un po' a spulciare questa fantastica mod. Allora, la mod la trovate in attrezzi, arieggiatori, eccolo qua, alpego KF7300, è il vero nome della mod, noi lo chiamiamo, lo chiamiamo Cracker, ma in realtà è KF7300, 11.000 euro di prezzo base, 3 metri di lavorazione, 160 cavalli di potenza. Guardate qua, ovviamente, non devo essere io a farvi notare, come al solito, tutti i particolari, il modello, i dettagli, eccetera, eccetera. Ormai lo sapete, al gruppo FSI, Peppe, significa qualità. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Questo, appunto, è un subsoiler ARA e lascia le texture dell'aratura. Ma se noi vogliamo anche coltivare il campo con la stessa lavorazione, abbiamo bisogno della combinata. La combinata, il coltivatore lo troviamo dentro, appunto, la categoria coltivatori. Andate, lo cercate, eccolo qua, Alpego Fronter H10, 2500 euro di prezzo, 40 cavalli di potenza richiesta, 3 metri di lavorazione. Guardate che spettacolo. Questa, con le parti gialle, diciamo, è la parte che va attaccata al vostro subsoiler. E, appunto, questo rullo funge da coltivatore messo insieme in combinata. Guardate che spettacolo. Questo, amici, è il Dirt. Come non mostrarvi il Dirt. Voi sapete che Peppe, forse, a mio parere, è uno dei migliori modder per quanto riguarda... Vabbè, non solo i modelli, le mod, ma per quanto riguarda anche il Dirt. Come lui mette il Dirt in maniera veramente oculata, in maniera precisa, in maniera... E, altrettanto, ha fatto con questo Alpego. Guardate qua, guardate un po', non ci sono parole per descrivere la precisione con cui è stato messo il Dirt. In alcune zone, in altre no, in altre più pesante, in altre più leggero. Insomma, che vi devo dire, il Dirt è strapromosso. E questa, invece, è l'usura massima. Anche l'usura è stata messa in maniera oculata, diciamo. Oh, mo' mi sono fissato con sto termine, è bellissimo. E, ovviamente, i denti che vanno ad affossare nel terreno, come nella realtà, sono quelli che maggiormente risentono dell'usura. Ed è arrivato il momento della prova su campo, amici miei. Innanzitutto, vediamo come collegare i due attrezzi. Allora, innanzitutto vi mostro che, con soltanto il Subsoiler, andate a lasciare... Vedete la texture della natura. Se però voi ci attaccate dietro, ecco, dalle parti gialle, dovete attaccare dalle parti gialle, ci attaccate questo. Tra l'altro, guardate i tubi, credo che siano tubi idraulici. Guardate tutti i tubi che vanno a collegarsi. Vedete, partono da qua. Si vanno a collegare qua, nei pistoncini qua. Tanta roba. Questo è il collegamento. Se voi, però, andate a lavorare e non abbassate il coltivatore dietro, lui continua comunque a lavorare come se non ci fosse. Quindi è molto importante abbassare. Vedete? Lo dovete abbassare. Guardate... Guardate l'animazione dei pistoncini, che spettacolo. Ecco, dovete abbassarlo. Così facendo, lui vi lascerà la texture del coltivato. Mi raccomando, eh. Vedete? Coltivatore alzato, rullo alzato, ara. Guardate le texture. Vedete? Coltivatore abbassato va a coltivare il campo. E quindi, a svolgere la doppia funzione. Amici, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della mod. Mi raccomando, incentivate sempre il modding italiano. E lasciamo 5 stellette anche per l'ultima mod di Peppe su FS 2019, ragazzi. Poi ci rivedremo sul 22. Commentate, commentate, commentate. Iscrivetevi. Lasciate un bel like. Evviva Peppe, evviva Team FSI. Evviva Farming 19, che ci ha dato tante, tante, tante belle soddisfazioni. Amici, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!